Buongiorno, buongiorno a voi. Allora siamo alla vigilia di questo grande avvenimento che avrà luogo domani, ve lo ricordo, in Piazza del Popolo a Roma a partire dalle ore 15. Io ci sarò, sarò presente, partirò domani mattina all'alba per essere appunto a Roma puntuale per l'inizio della manifestazione. È chiaro che ci auguriamo tutti di essere numerosi perché è una tappa estremamente importante. Stamani vi voglio parlare ancora una volta dell'attacco da parte di fanpage alla destra italiana perché l'obiettivo credo che sia assolutamente chiaro a tutti quanti di fanpage al di là di fare inchiesta da parte di un'attestata giornalistica è quella di affossare un avversario politico. E ieri sono tornati all'attacco nella trasmissione di La Sette condotta da Corrado Formiglie e stavolta hanno preso di mira la Lega e in particolare l'euro parlamentare Coccia che tra l'altro ha cercato anche di intervenire in studio venendo ripetutamente e dittattorialmente interrotto da Corrado Formiglie che ha questi atteggiamenti molto dittattoriali. Perché è una cosa essere in uno studio e poter decidere tutto quello che vuoi e a un certo punto ha anche deciso di far silenziare uno dei suoi ospiti. Questi metodi ripeto molto dittattoriali che poi sono le accuse che invece rivolgono all'altra parte politica e invece molto spesso fanno parte del loro modo di comportarsi. Anche questo fatto ad esempio di fomentare l'odio. Perché io credo che inchieste del genere molto delicate bisognerebbe prenderle molto più con le pinze e lasciare che sia la magistratura a pronunciarsi eventualmente se ci fossero dei reati. Ricordo che Fanpage anche in passato ha preso delle colossali cantonate attaccando personaggi vari come qualche tempo fa il figlio del presidente della regione Campagna De Luca e poi fu assolto completamente perché il fatto non sussisteva e loro avevano messo in piedi una cosa gigante. Ecco questo è un po' Fanpage. Ora la cosa che mi ha fatto un po' sorridere ieri è che dall'altra parte su Rete4 del Debbio ha affrontato anche lui questo tema ma portando dei documenti che invece Fanpage sulla 7 nasconde. Ad esempio hanno intervistato proprio uno che era al centro di questa inchiesta sulla 7 e cioè il consigliere della Lega Bastoni tra l'altro dipinto ma forse anche vero non è questo il tema come fascista e contento di essere fascista. Un problema assolutamente suo perché voglio dire siamo tutti grandi vaccinati e vi ho sempre espresso il mio punto di vista per me io quando mi chiedono ma tu come la pensi sul fascismo cosa ne dici del fascismo io dico sempre una cosa io vado ad ampliare il mio punto di vista e la mia osservazione io quando devo parlare di fascismo io dico fascismo e comunismo e comunismo e comunismo perché questa è la cosa importante hanno fatto enormi danni all'umanità perché se no altrimenti qui si pensa sempre che il comunismo sia esente da tutto che abbia fatto solamente beneficenza mentre così non è quindi questo è un po' la logica per me. Allora tornando su Bastoni invece del Debbio ha fatto vedere un documento la giornalista andata a intervistare Bastoni perché anche Bastoni ovviamente coinvolto in questa storia nelle 100 ore di girato di fanpage è stato avvicinato da questo giornalista che ha cercato di convincerlo semplifico di molto di fare del nero. Peccato che in questo caso Bastoni non sia caduto nella trappola perché probabilmente un po' più arguto non lo so rispetto a Lavarini e rispetto allo stesso eurodeputato di Fratelli d'Italia fidanza non ha accettato neanche di confrontarsi ma anzi a un certo punto si è messo a registrare lui il giornalista di fanpage e si capisce chiaramente che c'è un tentativo da parte di questo giornalista di fanpage di spingere a fare del nero il consigliere Bastoni. Proprio lì dice dai io posso fare solo così però sono soldi subito per voi cioè come per dire un po' a furia di dai e dai talvolta l'occasione fa l'uomo ladro e questa forse è un po' la circostanza però ripeto Bastoni in questo caso non cade nel tranello. Qual è la conclusione che voglio dare a questo? Vedete voglio farvi un esempio Polanski che tutti quanti conosciamo è stato un grande regista indiscutibile e questo è la sua professione è il regista. Poi passiamo all'uomo perché noi oltre a essere a fare il nostro mestiere nella vita siamo degli uomini e passiamo al giudizio dell'uomo. È evidente che il giudizio non può non tener conto del fatto che è stato accertato perché è stato condannato che è un pedofilo quindi una cosa gravissima una cosa schifosa un pedofilo è stato condannato nel 1977 negli Stati Uniti per pedofilia ai danni di una ragazzina di 13 anni e ha tantissime altre accuse per pedofilia quindi ci troviamo di fronte a un grande regista pedofilo quindi a un essere umano schifoso e qui è la stessa identica cosa potremo anche io non entro nel merito se è giusto se è sbagliato che un giornalista vada a fare questo tipo di inchieste vada a fare il poliziotto io giudico a questo punto l'uomo e l'uomo è un uomo schifoso questa è la realtà no voglio dire sono due cose diverse poi ognuno ripeto la può pensare come vuole con questo vi lascio vi auguro una buona mattinata e ci sentiamo più tardi